Musica Potente appara ragazzi, qua è Maxlogic, oh my god, oggi sono nel sole e sono qui a presentarvi Un video fantastico, perché infatti, ah no, anzi no, per iniziare vi volevo ricordare come sempre di passare da onefifa.com Se siete interessati a comprare i crediti di FIFA e mi raccomando utilizzate il codice AXL.2 come discount code Fatelo perché poi i crediti arrivano tipo in due secondi, quindi poi vabbè l'affidabilità è sempre al top Quindi mi raccomando se volete i crediti andate da onefifa.com Secondariamente vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Anche l'ultimo video ha superato i 4.500 mi piace, quindi siamo una ruota, non siamo più fermabili Quindi dobbiamo mettere un bel mi piace anche in questo video e dobbiamo raggiungere i 5.000 Non vi spiego il perché, ma lo scoprirete voi da solito Comunque ragazzi, oggi sono qui a presentarvi un altro giocatore Perché ho visto che alla fine la presentazione di Son vi è piaciuta Ma oggi il giocatore è proprio uno special guest Oggi sono qui a presentarvi la prova in diretta di questo fenomeno Messi Team of the Year pagato la bellezza di 12 milioni di crediti Quindi veramente un maciello Ora ne costa 14 quindi ci ho anche guadagnato Vi farò anche vedere in un futuro video come ci sono arrivati ad avere così tanti crediti Che tipo di complemento ho utilizzato Quindi una cosa veramente fantastica E detto questo ragazzi, non mi sembrano altre cose da dire Questa squadra è una bomba ma adesso la andremo a provare Poi ragazzi, non so se mi avete notato ancora in pigiama Però è successa una cosa abbastanza ambigua In questo weekend su 48 ore e 46 le ho passate in pigiama Quindi ecco il motivo, eccovi spiegato il motivo Ho uno stadio che è imbarazzante, dovevo pure cambiarlo Me l'avete detto in molti però mi sono scordato Lo cambierò a fine di questa partita Che gol è uno gol di Fellaini intanto Che gol asso Di Fellaini Che gol al 35esimo 1 a 2 Dai bravo Lionel, dai su Bravissimo dai Lionel Oh dai che ti riconosco adesso Forza 3 a 2 E ragazzi, ahimè, ho dovuto abbandonare la partita Perché non stava più registrando nulla Magari si è tipo disincronizzato tutto Magari anche adesso Però speriamo di no Comunque ci stavo perdendo Devo essere sincero Però non era ancora Ma non avevo ancora iniziato a macinare Uh, ma gli avessi di nostro sfidante Andiamo da venire la squadra 83 di valutazione 100 di intesa 3-5-2 Della Bundesliga Misto anche forse un po' di Premier No, c'è solo Schurle C'è, ho messo il nuovo stadio 5 minuti fa nemmeno Prima di registrare E piove Alla prima partita Ho detto Mmm, c'è raffigurato il sole Magari non piove mai Alla prima partita piove Ottimo Come avete messi? Attenzione Lione è il numero E c'è Calcone L'1-0 Il fichetto messo Preciso Preciso Madonna Ma che cosa fa? C'è veramente È una bestia questa versione Costa 12 milioni Quindi non so quanti di voi ce lo possono permettere Ma vi posso assicurare che li stravale tutti Madome Sicure Assisman Ma che 1-2-3 con Lukaku Che azione che ho fatto? Dalio Non ti sbagliare Ma lui non sbaglia 27 2-0 È un cavallo Veramente È in balia Il nostro avversario Non sa più cosa fare È incontentibile No E ragazzi Punizione per noi Ottima distanza Dire che Messi punisce Comunque se volete O meglio Tolete se volete Consigliatemi uno stadio Nella quale piove stra poco Porca miseria Preso palo Che c'è sempre nel tempo È anche abbastanza bello Perché ad esempio Quello di prima Quello che avevo io prima Non si vedeva niente Poiché era tutto in ombra Quindi Se ne sapete uno In cui piove stra poco Fatelo sapere Grazie mille È il nostro avversario Quittar Che palle Nuovo sfidante Anche lui 83 di partizione 4-4-2 Serie A Bundes Al Pogbang Che è un fenomeno Ragazzi è fortissimo E piove ancora Com'è possibile Basta Santiago Bernabèo Bocciato Piove sempre Non è vero Era un blef Piove fuori Ma non dentro il campo E intanto Lionel Fa già vedere la bestia Che è in lui Lionel Lionel Infermabile 1-0 Al secondo minuto Lionel Lionel Lo messi L'angre La goal Sì 6 metri 6 metri più avanti Battono il fallo Che è Milan Parma Intanto Il Marouane Ferené Marouane Ferené La da Messi Messi che è scatenato Fermatelo Che lui Non si stoppa mai Da solo Mi si è spento il controllo Mi sa Vabbè Lui va dritto Mi ha scattato tutti Comunque Vabbè La metto in the middle Dove non c'è mai Nessuno Dai bravo Lionel E ti prego Fammelo 2-0 E' un cecchino Non ne sbaglia una Dove tu vuoi andare Scialalala E intanto Il caro Armato Luca Bavanza 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 Madonna E' carico Porca Di quella E ragazzi Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un bel commento E fate qualcos'altro Messi E' una bestia L'ho pagato 12 milioni Cioè Non so neanche se valga Perché 12 milioni Sono veramente un maciello Ma vi posso assicurare Che vi divertirete Un sacco Di utilizzarlo Adesso Io lo andrò a prendere Andrò a prendere Un giocatore Che mi scriverete voi Quindi mi raccomando Commentate questo video Scrivendo Che giocatore Vorreste che io Prenda Appunto Con i credit Che ricavarai Quindi Detto questo Mi raccomando Asciutto Mi piace Io vi saluto E vi dico Potenta Parasena Nel prossimo video Ciao a tutti